A lavoro gli uomini dell'ACA e quelli dell'ANAS a Pescara, il ripristino della condotta a Fognaria ha raggiunto l'accordo. Si stima una durata di otto giorni per l'intervento. Mancano ancora alcune rilevazioni della SNAM, ma il progetto è quello di interrare la condotta. Qualcuno dice se a causare la rottura nei giorni scorsi era stato un movimento franoso, si potrebbe rischiare ancora mettendolo sotto terra. Smentisce e rassicura il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio. Assolutamente no, perché non ci troviamo di fronte a una collina o a un declivio del terreno. Ci troviamo su una strada pianeggiante e quindi non c'è pericolo di spottamento. Peraltro voglio aggiungere che la condotta che abbiamo ripristinato in questo momento è allocata proprio sotto la sede stradale. Quindi è la soluzione migliore anche per evitare che ci sia una situazione anche ambientale, di un decoro ambientale oltre che di funzionalità. Pronti ad intervenire per ripristinare il servizio, ora il pensiero va ai costi dei lavori. Ripartiti tra ACA e ANAS, spiega Del Vecchio, somme ingenti, ma il comune di Pescara non dovrà sborsare nemmeno un euro. Sarà poi compito delle due società in questione risarcire i cittadini danneggiati dall'inondazione. Per quanto riguarda ANAS, a seconda delle attività lavorative, si parla di una cifra che varia dai 600 a un milione di euro. Per quanto riguarda ACA, anche qui, insomma, la soluzione ultima rispetto alla precedente sicuramente è più breve, però invece della linea aerea prevede l'interramento. Non so quantificare l'aspetto, diciamo, economico. Sarà una questione secondaria che affronteremo nelle sedi opportune, non dimenticando che ci sono anche assicurazioni a garanzia di determinate criticità, non dimenticando, peraltro, che ci sono anche soggetti privati che hanno avuto dei danni e che dovranno essere sicuramente ristorati.